La nascita di Roma secondo la storia o leggenda di Romolo e Remo La nascita di Roma è uno dei momenti più importanti della storia dell'Occidente. La città che sarebbe diventata la capitale di un impero che dominava gran parte del mondo antico è stata fondata secondo la tradizione da due gemelli, Romolo e Remo, figli di Rea Silvia e del dio Marte. La storia di Romolo e Remo è narrata da numerosi autori antichi, tra cui titoli Livio, Dionigi di Alicarnasso e Plutarco. Secondo la tradizione, Rea Silvia era una vestale, una sacerdotessa che aveva il compito di custodire il fuoco sacro di Vesta. Amulio, il fratello di Numitore, legittimo re di Alba Longa, usurpò il trono e costrinse Rea Silvia a diventare una vestale, impedendole di avere figli. Tuttavia, Rea Silvia fu fecondata da Marte, il dio della guerra, e partorì due gemelli. Amulio, temendo che i gemelli potessero rivendicare il trono, ordinò a un suo servo di ucciderli. Il servo, impietosito, li mise in un'arca e li lasciò galleggiare sul fiume Tevere. L'arca prodò sulle rive del Tevere, dove fu trovata da una lupa che li allattò. I gemelli furono poi raccolti da un pastore, Faustolo, e dalla sua moglie, Acca Larenzia, che li allevarono come propri figli. Quando Romolo e Remo crebbero, scoprirono la loro vera identità e decisero di vendicare la loro madre. Uccisero Amulio e restituirono il trono a Numitore. I due gemelli decisero poi di fondare una nuova città, che avrebbero chiamato Roma. Romolo e Remo si contesero il diritto di fondare la città. Romolo voleva costruire la città sul Palatino, mentre Remo voleva costruirla sul Campidoglio. Per risolvere la disputa, i due gemelli decisero di aspettare che un avvoltoio volasse sopra la testa di colui che avrebbe fondato la città. Un avvoltoio volò sopra la testa di Romolo, ma Remo lo schernì, dicendo che un altro avvoltoio sarebbe arrivato presto. A quel punto, un secondo avvoltoio volò sopra la testa di Remo, ma Romolo lo uccise con una freccia. Romolo interpretò l'evento come un segno degli dèi e dichiarò che la città sarebbe stata fondata sul Palatino. Remo, furioso, scese dal Campidoglio e scavalcò il fossato che Romolo aveva scavato per delimitare il perimetro della città. Romolo, vedendo ciò, uccise Remo. Romolo divenne così il primo re di Roma. La città fu fondata il 21 aprile 753 avanti Cristo, data che è considerata il Natale di Roma. La storia di Romolo e Remo è una leggenda, ma è anche un racconto che ha contribuito a plasmare la coscienza nazionale romana. I due gemelli sono considerati fondatori di Roma e i loro nomi sono ancora oggi celebrati nella città eterna. La leggenda di Romolo e Remo come fondazione di Roma. La leggenda di Romolo e Remo è un racconto affascinante che ha affascinato generazioni di persone. È una storia di amore, tragedia e destino, ma è anche una storia di fondazione, di una città che sarebbe diventata la capitale di un impero che avrebbe cambiato il corso della storia. La leggenda di Romolo e Remo è una storia che ha avuto un impatto profondo sulla cultura occidentale. È stata raccontata e reinterpretata innumerevoli volte nei secoli, ed è ancora oggi un simbolo di Roma e del suo popolo. La leggenda come fonte storica. La leggenda di Romolo e Remo è una fonte storica importante, ma deve essere interpretata con cautela. È importante ricordare che è una storia che è stata tramandata per secoli, e che ha subito inevitabilmente delle modifiche. Tuttavia, la leggenda di Romolo e Remo ci fornisce alcune informazioni preziose sulla nascita di Roma. Roma ci dice che la città fu fondata da un gruppo di pastori e agricoltori, che si insediarono sulle rive del Tevere. Ci dice anche che Roma fu fondata come una città-stato, con un re al comando. La leggenda di Romolo e Remo è una storia affascinante e importante. È una storia che ci racconta le origini di una delle città più importanti del mondo. Grazie. 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 Grazie.